Benvenuti in un nuovo video! Siamo ritornate! Lei nera, io bianca mozzarella. No, è vero. Sì, dal video si mi propone il parco cucerino. Comunque, siamo qui per aprire la box di Degusta Box. Quando è arrivata? Non so, è giusto una settimana. È stata qui o... Come ho fatto? Eh, ho fatto tante altre cose. Speriamo bene, non abbiamo visto nessun spoiler, vedete che stanno tutti in vacanza, vicino l'arraputo. Speriamo bene, perché ho paura, chissà. L'altra, quella per il dilugio era bene uscita. Sapete che io non ci collaboro, però sto ancora lungo. Sapete che io non ci collaboro, ma giù nell'info box troverete un link, questo link vi permetterà di ricevere la vostra prima box ad un prezzo bassissimo, quindi 9,99. Nel momento in cui voi acquistate, io riceverò 50 punti, ma naturalmente anche voi acquistate, vi darà un cosa, c'è ad amici e parellola. A me la storia la conoscete già. Potete fare la stessa cosa. Esatto. Corriere Bartolini. Guarda un po', questo mese si è anticipata, solitamente sempre a fine mese. È vero. Dobbiamo anche prenotare la prossima. Ovviamente se non riuscirò ancora una 24 ore, non faccio la prossima settembre. Poi ci arriverà a aprire la cold box ad ottobre. Ma no, è il doppio. Speriamo di riuscire a fare una 24 ore, non faccio una 24 ore da una vita. Però ma che va, facciamo passaggi. Eppure sono piaciuti. Sì, sì. Però non mi trovo questa sera. Prendiamo le solite brochure. Andiamo con il vetro. E la... Non immaginiamo. E che succo. Achillea, frullato, mix di frutta rossa, fragole, mirtillo e melagrana. Firmato Dolce Vita. Il suco delle lenticchie. Eccolo qua. Interessante. Però ho visto una cosa che volevo prendere. Sempre presente. Questo è classico. Ma ce l'abbiamo provato però. Non sbaglio, sì. Ho a cioccolato. Non ho a cioccolato, ma io ho provato poi questi. Della Morato. Come li chiama? Nuvoletta. Nuvolatte. Nuvolatte. 8 panini dolci, classico, con il 20% di latte. Avevo letto. Morato da tanti anni sostiene i bambini delle fate. Per subito, ok. Io volevo provare, ce ne sono due. Latte Zimil, questa è una super novità. Ti manda la storia. Esatto, senza lattosio e latte, senza lattosio e latte caffèo, con caffè della Tanzania. E poi latte cioccolato con cacao del Ecuador. Wow. Da quanto sono? Ho visto la storia di Deborah, e ho detto, no, mi ispira. Eh, non c'è scritto la scadenza. No, volevo dire, no, la scadenza, la quantità. Vabbè, penso sempre 90. Ah, che scatola. Sento molte cose imbustate. Vabbè, tu vai sempre sulla pirrozza. Peroni. Ah, peroni e nastro azzurro. Tipo quella colazione. La nalcolina. 0.0, per cosa sta? Ah, è senza alcol. È un alcolina. Sono diventate esperta, ragazzi. Già sanno. Già sanno. Infatti 0.0. All'alcolica. Agente 0.07. Molto. Comunque mi è venuta in mente Dada. Guarda, non è all'allumina, ma è plastica. Come re? Ah no, nuova lattina. Agli, gira facile. Tu, l'aloe d'oliva. Pinne gialle. Wow. Quante ce ne sono? Tre? Tre. Nuo peck. Questa è un esempio di la linguetta per non tagliarti, eh? Vedi? Meglio. Perché noi sempre animali, ogni volta è da morirla. Prego. Io. Comunque la vedo consistente, diciamo. Un'altra bibita. Ci vorrebbe una brava. Della Bravo. Sunny Orange più Ananas. Ci sta. Carina colore. Io ti scoloro. Le galatine. Colleziona tutti i galattici e prova a vincere. Tavolette al latte. Wow, adoro. Sono state nella confezione. Ah no, è sempre stata così. Però vedi, sono stiocolorati dentro. Scriziose. Le galatine trovavamo una fasqua. Giorcetti. No, gli conietti. Erano gommosi. Conietti gommosi. Che buono. E poi ti è finita. Mind the Gala. La nuova pubblicità, l'ho vista. Ah, energia per la tua mente. 15 componenti attivi per concentrazione di energia mentale. Wow. Un pacchetto è uguale a 4 energy drink. Rilascio già dai primi 15 minuti. Integratore alimentare con edulcoranti. Formato cinese. Ah, ce l'ha già fatto da Giuseppe. Che sei? Wow. Gli dai una stecchetta e chi la dà? No, gliela togli. Sì, gliela fai? Wow. Come si chiama Giuseppe? Ibravimovic. Ibra. Barretta. Marchio. Altro. Mercato. Vabbè. È una frolla integrale farcita con cioccolato e cocco. Wow. La proveremo. Interessante. Questa più. Ah, questa. Ah, stanno pure questa. Le C-gamma. Vitamina C. C'è una gomma uguale a 100 mg di vitamina C. Spesso ritroverò 200 g di arance. Sì, è un po' di novità mista. Perché non c'è qualcosa di succulento. Wow. Ma il colore? Adoro. È bellissimo. Ok. Prendi la brochure. Allora, già avevo dimenticato questo particolare della brochure. Allora, no. Ah, altro mercato si chiamava. Sarebbe lo snack cioccolato e cocco. 0,99. Per ogni 2,89. Il succo, che cos'è, bravo? 0,99. Che gusti c'erano? Allora, c'era arancia. Arancia e limone. Wow. Arancia e limone. Arancia e ananas. E mix di freddo. E arancia e mango. 0,99. Poi, bauli 2,39. Le Mind the Gum 3,99 sarebbero quelle là. Aligo, mamma mia. Ma se le vendono così o? C'è proprio il pacco, penso così. No, penso così. Aiuta la concentrazione, energia mentale, grazie a caffeina, teanina, biancospine, vitamine. Ce n'era anche un altro, solo che non riesco a capire che funziona. Vabbò. Poi, Mind the Gum, sempre la stessa linea, però con la vitamina C, sempre 3,99. Galatine 1,90. Latte zimilune 19. Quanti ml sono? Lo dice? No. No. Ok. Poi, il tonno, 3 scatolette da 65 grammi, 3,49. I panini dolci dell'amorato 1,99. E il succo achillea 2,99. Alla fine ci sta, alla fine ci hanno dato prodotti costosi, considerate come 4 euro. Mamma mia. Cioè, i primi 8 euro. Cioè, per superare i quasi 30 euro. Sì, sì, sì. Ci arriviamo a 30. Eppure sono cose così, però. Però sono tutte nominate. Io non vi troverai a provare il latte. Anche io. Ops. Mezzogiorno. Ok. E quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Forse questo video da agosto o settimana, forse settimana posso uscire da quello. Ok. Ma niente, spoiler. Ci saranno un po' di novità, un po' di cosucce nuove che bolleranno in pentola. E quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nella prossima. Ciao. Nel prossimo video. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao.